PressBoy viene realizzato con materiali pregiati, presenta un design elegante ed è l'ideale per ogni famiglia. Il coperchio PressBoy è facile da aprire e chiudere. Se il coperchio è chiuso, si possono facilmente comprimere i rifiuti a mano, fuori, su e giù. Con PressBoy è possibile comprimere il contenuto di tre sacchetti in uno. Da tre se ne ottiene uno. PressBoy!